Scimus è che si è fatto ritrarre, si è fatto fotografare più volte con la maglietta del Liverpool e quindi voglio chiederti innanzitutto se sei un tifoso del Liverpool e poi se c'è magari qualche squadra italiana che preferisci, che ti è simpatica, magari del passato. Sì, sono sempre stato un grande tifoso del Liverpool. La mia squadra preferita era quando ero bambino perché ci giocavano quattro giocatori irlandesi quando ho iniziato a interessarmi al calcio. Ronnie Whelan, Ray Houghton, John Aldridge e Steve Staunton. Quindi ero molto interessato al Liverpool, ma guardavo anche il calcio italiano, specialmente quando il calcio inglese non venne più trasmesso dalla TV gratuita. Cominciai a vedere il calcio italiano. C'erano squadre come l'Inter, nella quale giocava Ruben Sosa, poi Maradona, che stava giungendo il termine della sua carriera con il Napoli. Ma una squadra che mi piaceva in particolare era la Sampdoria, soprattutto quando aveva Viali, Mancini e Attilio Lombardo. Lui mi piaceva tantissimo, non so per quale motivo. Non so se per i colori della maglia o per come giocava, ma la Sampdoria mi piaceva tanto. Io guardavo il vostro calcio da straniero e per uno che non è dello stesso paese è facile appassionarsi a squadre come, non so, il Manchester United o l'Arsenal, perché sono le più vincenti. O magari squadre come il Liverpool o il Chelsea. E la Sampdoria non era a livello della Juve, del Milan o dell'Inter, ma mi piaceva il modo in cui giocava, mi piacevano i calciatori, mi piaceva il loro stile. Mi divertiva molto guardarle, quindi direi che era la mia squadra preferita. mi piaceva il loro spazio, mi piaceva il loro flair, e sono molto divertenti a guardare. Quindi sono probabilmente la squadra che mi piaceva a guardare il più. Ciao amici di Sky Sport, Fella.